Quale giorno cambierei del mio passato? 6 giugno del 2001 Ma il giorno in cui son nato? Appunto! Qual è la mia acconciatura di capelli preferita? Scusa ma che domanda è? Prova! Ma te non t'acconci mai? Ah prova! E che ne so, a cestino di cappuccetto rosso? A cestino di cappuccetto... Eh, c'hai sempre i capelli intrecciati, annodati, a volte con dei rami dentro... Qual è la mia festa preferita? Halloween Halloween Tra tutte le feste che ci sono proprio Halloween Oh è l'unico giorno in cui quando la gente ti vede lo si spaventa Oh! Che animale vorrei essere? Una tartaruga ninja Dai fai in serio Eh, l'uccello Perché è l'uccello? Perché così puoi prendertene e volartene a fancu Ah!